Ci troviamo oggi in Piazza Redi, una zona della città di Pesaro ad alto tasso residenziale, ad alta concentrazione di attività commerciali e lavorative e a quanto pare anche ad un livello crescente di piccola criminalità. C'è chi le chiama baby gang, c'è chi le chiama ragazzini sfrontati e fatto sta che si sta creando una problematica seria in questa zona della città, in questo quartiere. Episodi di vandalismo, risse, provocazioni ai passanti, episodi di ragazzini che entrano negli androni dei condomini. Questo è il racconto di diverse persone che abbiamo incontrato qui in Piazza Redi, una problematica che sta diventando seria per residenti e commercianti tant'è che è partita anche una raccolta firme destinata a chiedere maggiore videosorveglianza in questa zona, un maggior transito di pattuglie e di polizia per monitorare appunto una situazione prima che degeneri. Siamo all'edicola Uguccioni di Piazza Redi dove in vetrina vediamo la locandina di quello che sta accadendo un po' qui nel quartiere e sul suo tavolo vediamo appunto anche la raccolta firme. C'è un problema, c'è un problema di baby gang, le possiamo chiamare così, è un disagio per commercianti residenti che a quanto pare raccolgono firme per chiedere videosorveglianza. Sì, videosorveglianza, un passaggio più frequente delle forze dell'ordine comunque perché in effetti si stanno riscontrando questi piccoli atteggiamenti un pochino disturbanti sia per la zona perché sta perdendo anche valore economico diciamo sia per noi negozianti perché comunque non siamo più sicuri, adesso non è un problema così da aver paura, però è fastidioso, è fastidioso perché comunque ci sono state risse, ci sono state rotture tipo furti di biciclette, cose piccoline però è molto fastidioso. Avete dunque sentito il parere dell'edicola di Piazzaredi ma dobbiamo confidare che abbiamo ascoltato tanti pareri in questa mattinata da parte di commercianti e residenti che toccano con mano questa problematica ma c'è poca voglia di apparire e di testimoniare a conferma di come si stia vivendo questo problema e si cerchi di evitare di esporsi per evitare piccole ritorsioni che stanno diventando davvero fastidiose.